La manifestazione è nata quasi per caso l'anno scorso grazie all'associazione Acursa che è stata sostenuta e patrocinata dal Consiglio regionale e lo stesso sarà anche per questa edizione una manifestazione finalizzata alla solidarietà in favore della Lega del Filodoro. Sottolineiamo l'importanza della vicinanza di tante persone che organizzano iniziative a favore della Fondazione e quindi dell'importanza di questi contributi, di questo sostegno per la nostra attività che dura da 60 anni a favore delle persone sordoceche e pluriminorate psicosensoriali. Domenica alle ore 15 ci sarà la partenza di questa grande parata, quest'anno ci sarà una sorpresa, qualcosa di magico arriverà dal cielo e quindi invito tutti a partecipare e per registrarsi è necessario andare sul link che noi metteremo sulla pagina della corsa e metteremo anche sulla pagina appunto del Consiglio regionale che patrocinerà questo evento e semplicemente registrare la propria data di nascita e il proprio nome perché questo servirà ancora una volta per fare il doppio controllo per inviare poi i dati al Guinness dei primati e vedremo se riusciremo questa volta a vincerlo. L'anno scorso avevamo 343 partecipanti, quest'anno ci auguriamo di averne molti molti di più.